Buongiorno ragazzi, sono Giacomo, diventerò milionario in 5 anni, sono le 7.52 di... si, si, si... no, non lo so... ah sì, giovedì 1 settembre, ero convinto fosse venerdì, poi ho detto no, venerdì non lo è... giovedì 1 settembre e benvenuti a settembre, benvenuti in questo nuovo mese, nel primo mese di veri numeri interessanti potenzialmente perché finalmente ci sguinzagliamo, la gente torna a lavorare, torna a navigare internet, torna a cercare informazioni su come fare per non lavorare salvo poi lavorare e spendere i soldi nelle ferie settimana bianca e estive, ma vabbè ci sta alla fine l'economia deve girare quindi fai bene se lo fai a farlo o fai bene anche fai bene se stai risparmiando per avere un futuro migliore anche se adesso va detto che risparmiare può essere molto utile solamente per pagare le bollette perché veramente ragazzi c'è un'ansia da prestazione verso quello che arriverà questo inverno che non lo so, non lo so cosa succederà, sarà veramente un'esplosione di gusti e sapori amari noi siamo pronti, sappiamo tutto quello che c'è da fare, però sapremo che ci sarà un'inculata dopo l'altra abbiamo la possibilità di evitarla o limitarla tramite, beh io andrò a legna tutto l'inverno quindi avanti così, chi ha la possibilità di avere delle attività alternative per riscaldarsi per fare qualsiasi cosa che la faccia ma che si attivi subito soprattutto consiglio spassionato da amico, ragazzi iniziate a mettervi a soldi perché questo inverno saranno frustate e sarà veramente da piangere, sarà un'inverno di moria e limitazioni cosa che comunque non è un problema per me perché comunque è stato come l'inverno scorso alla fine non si fa mai un cazzo, si sta a casa a lavorare ma oh ragazzi cosa vuoi che ti dica? mi piace e quindi questa cosa qua sono veramente contento che sia così perché immagina adesso vi do un po' del voi, un po' del tu, non so su che base sarebbe bello psicoanalizzare questa cosa, insomma dai andiamo sulla fiducia sarebbe bello, no, sarebbe terribile se la mia vita fosse tipo ah devo lavorare però vorrei andare a comprare un paio di jeans, ah un paio di scarpe, ah questo, questo, quell'altro cioè se fossi, non dico uno sprecone, ma se fossi vagamente interessato alla cura della mia persona sarebbe un bel problema perché un paio di jeans al mese, ogni sei mesi anche, sarebbe veramente una spesa abbastanza importante invece devo dire che, oh io veramente non so da quanto tempo non mi compro un paio di jeans c'era stato un periodo della mia vita nel quale mia mamma ogni compleanno mi regalava un paio di jeans e delle mutante, è proprio un regalo classico da mamma, no? e basta, a un certo punto ho detto, mamma, sto anno niente, niente jeans, niente mutande perché ho l'armadio strapieno poi già io quando mi affeziono l'indumento lo porto proprio finché non mettendo dentro il piede esce dal ginocchio da quanto grande è il buco, quindi tipo tutti i jeans nuovi tranne un paio che è sfondato e questa cosa qua fa abbastanza ridere, infatti mia moglie è contenta ogni volta capro e il mio cassetto vede cento paio di mutande e il jeans dice, ah tu ama veramente, oh è una roba incredibile e quindi a livello di proprio maglie, magliette, jeans eccetera, calzini, scarpe, spendo veramente un cazzo ah, tra l'altro una chicca sulle scarpe che non so se vi ho mai detto, io le cambio una volta all'anno e compro sempre delle sketchers, ormai sono a misura, so che sul sito le posso trovare a 40-50 euro adesso magari i prezzi saranno aumentati, non lo so, però io adesso settembre-ottobre le cambio e basta mi durano un anno e indosso solo quelle, cioè ragazzi io vado, cioè vabbè che non ho attività sociale però per qualsiasi cosa io faccia metto quelle e basta, cioè non è che ci penso neanche al fine le prendo sempre abbastanza con colori grigi, scuri, quindi non si nota se non sono particolarmente eleganti e vado via alla grande, settimana prossima ho un matrimonio e metto quelle, ma senza, quelle col jeans una camicia e sei come un signore, bello delle sketchers, quello ragazzi si va a comandare ma con questo non voglio dire neanche sono un figo, neanche sono un ostracione però semplicemente non mi interessa questo aspetto qui, non mi è mai interessato di avere il gadget dell'avanguardia la cosa dell'ultima ora, perché fortunatamente, magari ditemi anche voi, visto che ieri si è scatenato un dibattito interessante sui consumi familiari, eccetera, eccetera, sul gruppo Telegram che trovate su Diventerò un milione da punti di usare Telegram, ditemi anche voi se questa cosa delle scarpe io la vedo come Giacomo fuori di testa e compro le scarpe una volta all'anno però magari è la normalità e uso solo quelle, quindi fatemi sapere se anche voi fate così se non fate così, oppure come fate, quello che fate, eccetera, eccetera, perché è interessante o anche se avete dei modi interessanti per risparmiare sulle scarpe perché io compro sempre le sketcher, vado a vedere sul sito, un giorno che decido di cambiare dico, boh, mi do una settimana, vado sul sito finché non trovo un'offerta con il mio numero che è il 44 e basta, me le compro, mi arrivano, appena mi arrivano, prendo le mie vecchie me le provo, va bene, sì, boh, perfetto, prendo le mie vecchie e le butto via perché non voglio anche avere il problema di dire, ho le sketcher nuove però, prima ho detto sketcher, vuol dire sneaker, le sneaker alla fine vanno bene con tutto quando hai le sketcher nuove, il rischio è che ti tieni con le vecchie e dici, no, vai, dai, magari, forse, poi mi ci affeziono, eccetera, le tengo là e dopo tre anni hai quattro paio di scarpe, tre vecchie, più quello nuovo invece appena mi arrivano e ho butto via con le vecchie e vi andare, così libero anche spazio, faccio un'azione molto bella che se la fai subito è semplice, se rimani là, tergiversi, poi succede che non la fai più e diventa veramente un problema, quindi questo per completare un po' il quadro della mia economia, economia personale che può far ridere però in realtà ragazzi, chi se ne frega, mi trovo bene e quindi vado avanti così perché appunto, perché questa cosa, perché trovo soddisfazioni in quello che sto facendo secondo me questa cosa è assolutamente fondamentale cioè se tu non sei soddisfatto del tuo lavoro, della tua vita cerchi soddisfazioni da altre parti quindi cosa fai, compri cose, vedi cose partecipi a, non so, qualsiasi cosa ti possa dare una soddisfazione immediata però le cose che ti danno soddisfazione immediata sono chiaramente cose che costano perché funziona così se devi venderti qualcosa, ti vende qualcosa che ti dia una soddisfazione immediata quindi compri su Amazon, eccetera, eccetera, eccetera mentre se quello che fai ti dà soddisfazione, ti piace vedi che ti garantisce un futuro e soprattutto sei riuscito a disaccoppiare la necessità di avere una gratificazione immediata dalla soddisfazione personale perché dici, provi soddisfazione personale facendo un'azione che ti darà risultati fra uno, due, tre mesi come la scrittura di un articolo e forse non te li darà mai perché non è detto che tutti si posizioni o anzi, è sicuro che tutti non si posizioneranno ma qualcuno sì e quelli che si posizioneranno spaccheranno il culo però appunto bisogna veramente fare questo atto di fede verso il futuro e soprattutto bisogna sempre tenersi occupati con qualcosa che ci piace fare perché se iniziamo ad avere dei giorni liberi dei giorni off dove non so cosa fare succede che fottuti in tempo zero ragazzi si va su YouTube si trova la recensione del nuovo gadget di un paio di scarpe da bici dici vabbè andiamo a vedere quanto costano poi ti fissi poi le compri in tempo neanche una settimana ci è sputtanato due, trecento euro così con lo schiocco di un dito semplicemente perché mezz'ora non sapevi cosa fare si è andato su YouTube e si è instillato il dubbio del devo avere un paio di scarpe nuove per bici quindi questa cosa qua è anche bisogna fare attenzione sia come si investe il tempo quando lavoriamo perché deve essere produttivo al massimo ma anche e soprattutto quando abbiamo le difese abbassate quindi quando siamo nel tempo libero perché lì sì che si possono fare dei danni pesantissimi e bisogna veramente andare con l'armatura defero se no rischiamo di prendere delle di fare delle decisioni sbagliatissime semplicemente in mezz'ora in cui eravamo con le braghe calate quindi attenzione anche a questo ragazzi detto questo vi do una notizia interessantissima che mi ha detto aspetta adesso metto in pausa perché voglio citare giustamente la fonte ecco mi ha detto Marco ieri sul gruppo telegram di diventerò milano.it che è diventerò milano.it slash telegram che io ieri l'altro ho parlato della revisione della macchina e lui mi ha mandato un messaggio e fa guarda che puoi chiedere un rimborso per la revisione auto e io cioè mi ha fatto incazzare perché questa cosa non la sapevo ragazzi cioè chissà quanti incentivi stiamo perdendo per il semplice fatto che non riusciamo a conoscenze e poi quando me l'ha detto mi fa informati e ho detto bah chissà magari sarà una cosa scaduta una cosa di difficile richiesta oh mi sono informato ragazzi c'è il portale e tu entri con lo speed ci sono già tutti i tuoi dati quindi inserisci la targa fai click metti l'Iban fai click e ti dicono ok perfetto stiamo facendo la procedura ti riceverai soldi in conto non appena verrà portato a termine e questa cosa qua richiede circa 10 minuti di tempo ragazzi a farla proprio yuhu lunghissima che proprio cazzeggio 9 minuti e un minuto faccio tutta l'operazione quindi veramente semplicissima in rimborsa di 9,95 euro mi pare di aver capito e appunto per quello che costa è veramente incredibile per le revisioni fatte nel 2021 i termini sono scaduti per le revisioni fatte nel 2022 c'è tempo fino a dicembre per richiederla e per le revisioni fatte nel 2023 chiaramente c'è tempo l'anno prossimo è per il triennio 2021-2023 quindi se hai fatto una revisione quest'anno nel 2022 sai che puoi richiederlo se hai fatto una revisione l'anno prossimo sai che potrai richiederlo adesso non mi ricordo più il sito preciso dove fare questa richiesta comunque non c'è eccessiva fretta so che oggi scriverò un articolo a riguardo quindi oggi è giovedì sì sì dai vai sul blog stasera di diventraminan.it e lo trovi se no te lo linko domani mattina sull'episodio se no te lo linko in aggiunta posteriore su questo episodio comunque puoi avere o se no lo butto anche sul gruppo Telegram perché è di interesse comune quindi sicuramente una di queste quattro opzioni qua nel link nella descrizione di oggi nella descrizione dell'episodio del podcast di domani oppure sul sito diventraminan.it oppure verso il gruppo Telegram sicuramente lo metto per aiutare le altre persone quindi grazie mille Marco assolutamente segnalazione interessante rimane sempre il fatto che ragazzi queste cose mi fanno incazzare perché se non c'è la Marco io andavo avanti così ho fatto la revisione a sposo di 10 euro in più però invece con tre click mi becca un rimborso di 9,95 euro e finora chi ne ha parlato non lo sapeva quindi magari fatemi sapere anche se lo sapevate se lo sapevi e magari se non lo sapevi questa cosa ti ha interessato vieni su gruppo Telegram e fai grazie Marco grande Marco per questa segnalazione perché senza di lui saremmo stati in merda e la cosa bellissima in merda avremmo perso di 10 euro che però sono a disposizione quindi dà sempre fastidio a non prenderli la cosa bella è che sono andato a vedere un po' le parole chiave e c'è un sacco di spazio per entrare sul mercato con queste due parole chiave quindi che cosa è? bonus? non mi ricordo più comunque dai una è rimborso divisione auto 2022 l'altra è bonus veicoli sicuri forse il sito è bonusveicolisicuri.it ma non ve lo garantisco ecco dai adesso vado a cercarlo vi metto il link in descrizione se no aspettate l'articolo detto questo ragazzi basta chiacchierare a vanvera quello che avevo da dire oggi ve l'ho detto fatemi sapere se avete trovato interessante potete appunto iscrivere al gruppo Telegram oppure mandami una mail infochiocciolo dentro a milano.it sono Giacomo migliorare in 5 anni ci sentiamo domani ciao ciao grazie Marco grazie a tutti